buongiorno ci troviamo in brenna e oggi vi porto a vedere questo bilocale posto al piano terra all'interno di una corte seguitemi entriamo dalla porta blindata ci ritroviamo nel soggiorno con angolo cottura questa è la finestra e attraverso i disimpegni ci ritroviamo nella zona notte e nel bagno la camera che è anche animosa e adesso ci dirigiamo sul bagno il bagno il piano di inflazione forzata doccia per il modello e attacchi per la macchina buongiorno informazioni contattatemi al 331 77 36 797 geometra Marchese per la macchina per la macchina ci ritroviamo la macchina è stata